Ciao ragazzi, oggi facciamo una ricetta buonissima che sarebbe finger millet. Sono dei cereali che crescono nella mia città, stilanchese. Potete prendere dai negozi stilanchesi. Potete vedere la mia ricetta nella descrizione box. Come let's make! Pour the milk into the pan. Add finger millet powder. Stir well. Then add sugar and salt. Stir continuously. Let's cook under the low flame. Remember! Take a blender jar and put the mixer. Then put the banana into it. Add some lukewarm water. Now let's blend! Now let's blend! Go! Our smoothie is ready! mmmm delicious let's garnish with almonds let's try mmmm delicious try this with your parents you